Ciao ragazzi e ragazzi, ecco Gaia Gozzi a X-Factor 2016, la sua prima audizione. Gaia ha 18 anni quando si presenta davanti alla giuria di X-Factor, composta da Fedez, Arisa, Alvaro Soleil e Manuel Melli. Gaia si presenta con un look un po' eccentrico, le piace la moda e l'arte in generale. Alvaro subito si innamora della sua voce e di come parla. Lei è a X-Factor accompagnata dalla mamma, che in passato era una ballerina di contemporaneo e parla del suo rapporto speciale. La sua esibizione stupisce tutti. Sei da pelle d'oca, dicono i giudici di X-Factor. Arisa le dice che la sua voce non è da diciottenne e la invita a usare un look che non le copra tanto il capo. Alvaro Soleil è affascinato da Gaia e le dice che la sua voce è da pelle d'oca. Anche Fedez ha avuto i brividi per la sua esibizione. E infine Manuel che definisce la sua una voce grossa che gli ricorda le cose antiche e che la sua mamma può essere orgogliosa. Ovviamente ottiene l'approvazione da tutti i giudici e sono contenti di poter lavorare con lei. Complimenti a Gaia per la sua esibizione. Chissà se vingerà amici. Voi cosa ne pensate? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!